Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono SommelK300 e oggi ragazzi andremo a vedere gli altri due teaser che ha lasciato Fortnite, uno il primo verso le 2 del pomeriggio e l'altro intorno alle 4 e 22, sempre del pomeriggio. Andiamo a vedere, ovviamente vi faccio vedere quello di Instagram perché ho visto che quello su Twitter, si mettono il teaser, però su Twitter è molto molto generico, non mettono tutte le immagini che mettono negli altri social network, probabilmente perché Twitter è un po' più lavorativo, quindi probabilmente non le mettono, invece sui social le mettono. Come vedete sono nel canale ufficiale, abbiamo appunto sempre la scritta Mega, come possiamo vedere è la nuovissima skin, che poi ragazzi, vi ricordate quando ve l'avevo detto che queste le probabili skin praticamente ce le stanno presentando adesso si può dire, quindi ok. Vedete abbiamo questi dischi, questo qua probabilmente sarà un deltaplano, vedete ha molto lo stile di essere un deltaplano cavalcabile, o perlomeno quello là dove ci stiamo diciamo con due piedi sopra. E poi vedete, e poi qua c'è il continuo, poi tra l'altro bellissimo perché appunto c'è il, diciamo, come dire, mettono tante pezze di immagini che poi sembrano tutte intere. Ok ragazzi, adesso sono andato nel canale ufficiale di Fortnite Italia, perché appunto non volevo che ci fosse traduzione, cose così proprio lo prendiamo per come pubblica il canale, diciamo. Cioè, tanto ce l'abbiamo quello finalmente italiano, quindi voglio dire perché non sfruttarlo. Comunque, come potete vedere, questo l'abbiamo visto prima, sempre il tema, la stagione si chiamerà Mega, per qualche motivo, non lo so probabilmente perché ci saranno strutture immense forse. Non lo so, e come potete appunto vedere, grazia, bellezza, potere. Hashtag Fortnite Mega. Quindi, vabbè, questo secondo me per dare un po' un'introduzione alla skin. Poi questi altri pezzi di teaser, questi probabilmente suppongono, suppongo siano i picconi. E poi questo scogliattolo mutante con quattro occhi, un poco arrabbiato. Ovviamente penso questo sarà uno sprank, perché potete vedere, insomma, che... Quindi stanno spoilerando un po' di cose del pass battaglia, mettiamole così. E poi, ragazzi, questo che è il nome della skin, i mani, come potete vedere. E poi abbiamo questo probabilmente, non so se sarà un backpack o è semplicemente un oggetto così estetico e basta. Come potete vedere, c'è tra l'altro qui un albero, come potete vedere. C'è l'albero con delle foglie rosa, che ricordo appunto sempre gli alberi dello stile orientale. Qui ovviamente c'è 10-03, perché appunto la season esce quella data. E' molto molto interessante. Tra l'altro, vedete, per ogni skin stanno facendo, vedi, tuono, questa Mizuki, e questa qua i mani. E poi questa qua corda testa, che adesso vediamo. Tra l'altro molto molto interessante. Allora, abbiamo corda testa qua. Abbiamo sempre lo spray, vedete. E' tutto a tema orientale, ragazzi, non so che dirvi. Cioè, ormai diremmo sempre la stessa cosa. Domani, infatti, sarà l'ultimo video della stagione. Finalmente si può dire, va bene. Comunque, alla deriva, ma mai persa. Vedete, questa, ad esempio, è una descrizione molto importante. Perché ci avevano detto, ai tempi, che in questa stagione, quindi nella stagione 2, doveva tornare tutto il clan Fox. Quindi il clan della Volpe, quindi alla deriva e tutte le altre sue varianti, insomma. Quindi, per dare questa roba qua alla deriva, ma mai persa, scusate, già ci fa intendere, secondo me, tanta tanta roba. Comunque, potete vedere, è una specie di coniglietto. Ci sta, sapete che Epic Games mette skin del pass, dipende appunto dove viene, nel periodo dell'anno, mette qualche riferimento alla stagione in corso attuale del mondo reale, però. Come potete vedere, questi qua sono sicuramente i suoi picconi. E poi parte, ah no, invece tutto, il suo deltaplano. Vedete, sempre con questo stile molto neon futuristico. Poi possiamo vedere, vedete la moto qua. La nuova moto che se ne si parlava di moto futuristiche foto e moto nuove, scusate, non so che cazzo stia dicendo. E questi, non so se siano degli zainetti o siano dei nuovi tipi di spray, può darsi, eh, non lo so, sto dicendo una cavolata. Tipo a mo' di spray di Apex Legends, quei cosi che c'hanno la basetta e spunta fuori il cosolografico, che sarebbe figo. Però sarebbe un po' copiato da Apex, infatti non sarebbe più così bello. Vedete, però molto molto interessante. E ovviamente come sfondo ha sempre la città quella gigante, che dovrebbe esserci tecnicamente in questo aggiornamento. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente domani analizzeremo gli ultimi teaser, ma come sapete ragazzi c'è ben poco da dire. Perché già stavamo tanto dall'inizio, per cui giustamente adesso analizzare questi teaser ora è abbastanza inutile. Però è più bello perché ci stanno invece presentando i personaggi, che è una cosa molto molto carina. E forse anche alcune meccaniche, alcuni oggetti del pass battaglia, quindi molto molto carina come cosa nuova dei teaser. E finalmente, perché non avendo un evento finale, almeno ci intratteniamo con i teaser, che sono sempre belli che graditi sicuramente. Ovviamente voi scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se vi ricordate appunto qualche due patch fa, sto parlando già di forse quattro settimane fa addirittura, si parlava che c'era la stagione a tema romano, impero romano, barra appunto asiatico, che poi in effetti è quello che stiamo vedendo adesso. Invece ad oggi abbiamo i teaser, tutti ne è, un Tokyo, queste cose qua. Quindi proprio come cambiano le cose nel tempo. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Come vi dicevo prima, scrivetemi in questo video, nei commenti. Voi che cosa ne pensate? Un po' con le vostre teorie sbizzarritevi. Io mi diverto a leggervi. Noi ci vediamo, a un prossimo video.